Che c'entra un avvocato in tutta questa roba qua? Allora, in una concezione storica dell'avvocato che serve quando uno ha un problema in un tribunale, secondo me nulla, perché al massimo, in tutto quello che avete sentito, se c'è un bisticcio c'è un problema legale e quindi probabilmente l'avvocato serve per andare a fare il becchino di un accordo che è abortito. Ma io non credo, per l'esperienza che ho fatto, che l'avvocato in quella roba lì serva soltanto per andare a fare il becchino, perché il becchino ormai è poi uno che al massimo attribuisce all'investitore o allo start-up una responsabilità e tira delle conseguenze a livello di danni o risarcimento, ma ormai è finita. Tra l'altro l'avvocato è un costo, allora in avvi di aziende un ulteriore costo è una roba che faccio fatica a immaginare in un modello di business dove già i denari. però un po' per i capelli bianchi e un po' perché ho avuto curiosità di andare a vedere anche cosa succedeva in altri paesi e sono andato a lavorare, certo, negli Stati Uniti dove c'è un ecosistema, c'è una cultura, c'è una storia e c'è un'attitudine dei giovani ma anche degli investitori diversa, uno va a capire come mai in certi ecosistemi le cose funzionano in un certo modo e in altre fanno più fatica. Perché io una serie di cose che ho sentito le vivo, e forse qui può essere utile un terzo rispetto alle due parti. Le vivo dicendovi ragazzi, quelle che avete sentito non sono le verità assolute, giuste o sbagliate, sono la storia, l'esperienza di uno dei giocatori fondamentali di quel modello di business, ma non è l'unico ed è una visione, una cultura, un'attitudine legata al fatto che lavora da una parte della barricata. Voi rappresentate l'altra parte della barricata che a un certo punto ha bisogno di quella roba lì che chiamo volgarmente denaro, ma primo suggerimento, primo titolo, il denaro è una commodity, il denaro è fondamentale, ma se non ci fosse dietro la persona che avete sentito, che poi infatti alla fine integra il puro aspetto dell'investimento monetario con gli aspetti poi personali, l'uomo è il punto di caduta di successo di uno start-up, non è il denaro. Il punto chiave per voi, facciamo finta che non ci sia più e che sia via, ma lo sa benissimo, ma è il bello del gioco, io lo dico provocatoriamente perché vi serva, se no vi dico tutto giusto. Il vero punto centrale è il pensiero, è l'idea che ciascuno di voi matura, come la matura, come la organizza, come la trasforma, e lo vediamo, in un tentativo di impresa e più resiste in questo processo, più quando si presenta a un certo punto a lui, a lui come rappresentante di quel mondo, che però è il mondo degli istituzionali, quindi dei professionisti di quella roba lì, seri, competenti, corretti, con le rigidità degli istituzionali, con tutti i meccanismi delle formule degli istituzionali, non sono gli unici, gli altri sono quelli che si chiamano i club deal, o quelli che si chiamano gli FFF, cioè chiamo i quattro amici, io non ho una lira, ma ho un'idea, loro hanno parenti o direttamente portafogli adatti, voi datemi soldi, io metto l'idea, non sono istituzionali, siamo tutti un po' deofiti, c'è qualcuno che ha il portafoglio un po' più pieno, chi ce l'ha un po' meno, ma il nocciolo vostro è qua, e cioè è riuscire a girare la testa sempre a 360 gradi, essere pieno di curiosità per cosa mi capita intorno, dove abito, o ormai con la rete dove non solo abito, ma il villaggio globale mi permette ormai di andare a vedere nel mondo, andando a cercare di capire cosa, infatti quel è il primo elemento che lui quando va a fare il cane da tartufi a capire chi di voi merita di essere supportato e nella sua casistica e con le sue formule merita di fargli investire del tempo, perché tra l'altro lui non ne ha parlato, ma lui ha un sacco di time consuming, di conoscerne cento di voi e di sceglierne due, e poi di quei due fargli entrare nella casistica che il 50% dei 5 anni non sopravvive, tutto il time consuming fa parte del suo rischio, più a naso, occhio e smart attitude, più sceglierà subito dopo le interviste con alcuni di voi che lo hanno chiamato gli ascelti, qual è il caso giusto, ma questo è il suo mestiere, ma guardiamo il vostro, il vostro è la curiosità di andare a capire quali sono i bisogni da qui a tre anni, e cioè più mi guardo intorno e più esco dai vincoli, dai lacci e laccioli del mio territorio, della cultura che mi hanno insegnato, dell'educazione che mi hanno insegnato e faccio un salto di qualità culturale e mi guardo intorno, scopro che per esempio dopo un'ora di una roba del genere la gente non ce la fa più, perché il tasso della pazienza ha sul diagramma dei tempi, per cui mi pongo un problema e dice ma come faccio io, presuntuosamente mi accredito di dire cose interessanti, ma come faccio a tenere l'attenzione viva su argomenti che sono interessanti, sono la vostra vita, sono il vostro futuro, ma con un cervello che però ha dei tempi, ha delle necessità, ha il mezzo caffè che a un certo punto ti piange dentro, perché se no non ce la faccio, mi interessa, ma non ce la faccio, quello è sicuramente un bisogno, certi bisogni hanno vincoli naturali, però abbiamo visto stamattina delle cose inquietanti, proprio nelle start up delle nanotecnologie su come si può andare a intervenire anche, stanno facendolo, ricerca e sviluppo sul cervello, va bene, ma questa è tutta un'altra roba, non lontana dagli start up, ma al di là dei fatti naturali ci sono invece un sacco di altri bisogni, l'ultimo più stupido che abbiamo visto, che però va a colpire un tema che poi sono figli della pigrizia, sono figli di abitudini comportamentali, ma ogni tanto l'intuito è andare a risolvere il problema del parcheggio a chi non ha tempo, e normalmente non abbiamo tempo, certo in funzione di un portafoglio che possa pagare il servizio, ma se io che abito in un centro cittadino a ZTL trovassi uno che quando ho fretta, sempre, per permettermi di essere puntuale, arrivassi con la mia macchina, gli do le chiavi, mi fido che non me la ruba, e che a cui dico, senti ma se ti chiamo dieci minuti prima di quando ne avrò bisogno perché non lo so, me la riporti qui senza che io prenda multe tutto, se faccio una valutazione globale di tempo, non multa, comodità, e quanto in quel tempo che non spreco a cercare parcheggio barra prendere la multa riesco a fare delle cose, perché è sempre tempo sostitutivo che vuol dire reddito, caspita ma io tiro fuori il portafoglio e invece del parchimetro, invece della multa e invece della perdita di tempo l'odore, questo è uno che era andato a vedere il bisogno, ma guardare il bisogno che esiste sul mercato dimostra che abbiamo tutti ancora un sacco di spazio per fare cose nuove, le nuove tecnologie ci offrono strumenti straordinari di inventarci delle app che vanno a risolvere dei problemi di bisogno. Altro caso recentissimo, che ormai però è talmente diffuso che ormai si segmenta, sono le app che ti permettono da un museo all'aperto al chiuso, da una collezione all'aperto al chiuso, da lapidi in centri cittadini e quindi a problemi turistici di avere immediatamente scaricato cosa ci sta dietro a un monumento, cosa ci sta dietro a una lapide di un morto, cosa ci sta dietro a una serie di cose. Chi si è inventato quella roba lì? Quindi l'app è uno strumento tecnologico che se uno avesse avuto il pensiero all'inizio o ce l'avesse oggi, perché l'app è uno strumento, è un contenitore, io devo ficcargli dentro un'idea e là mi serve per andare a risolvere un bisogno dell'utenza. Perché vi dico questo? Perché è vero che a un certo punto il denaro a quel pensiero e a quell'idea permette di svilupparla e di farla rendere impresa, ma più io ho idea all'inizio e più io quell'idea la porto avanti in un'ottica di impresa, più sarò forte nella negoziazione sul punto A, sulla casellina A. Perché la casellina A è, come vi ha detto, per lui sicuramente un rischio totale, perché va a mettere dei soldi su un valore convenzionale che sconta un futuro in cui ci ha creduto, ma perché gli è piaciuto l'uomo, gli è piaciuto l'uomo che gliel'ha raccontata e, visto che non li ha, ma ha un po' di capelli bianchi esperienziali, beh, sa se gli è piaciuto solo perché era il classico genio esregolatezza, ma non ha nessuna ipotesi di diventare impresa, oppure se è talento perché è andato a colpire un bisogno di cui non si era accorto ancora nessuno e che può diventare impresa e che a tre anni effettivamente potrebbe anche reggere una concorrenza, perché anche altri magari la potrebbero pensare. Allora, il portarsi avanti secondo me vuol dire questo, vuol dire non solo avere la curiosità di andare a capire il bisogno, ma di renderla quella soluzione al bisogno fattibile dal punto di vista tecnico e incominciare a porsi anche un problema di sostenibilità economica, cioè sta anche in piedi una previsione, immaginazione, preventivazione di ricavi, cioè poi me la comprano anche, non è che piaccia solo a me, perché sennò è un pittone autoreferenziale che è l'artista genio esregolatezza che però non si è posto il problema del time to market. Allora, la complessità comincia a essere articolata, però va la pena, perché funziona tutto nel cervello, nel cervello di colui che è, io lo chiamo l'inventore, ma chiamate lo start-upper va bene lo stesso, dello start-upper che ha curiosato, ha individuato e nell'aver individuato ha anche già applicato due criteri che se non mi applica lui, che sono la fattibilità e sostenibilità di sta roba, non sto sognando, ma mi sono già posto una serie di temi che mi permettono di presentarmi a lui, ti uso sempre come controparte, perché sei una mia controparte, dobbiamo sposarci, però inizialmente per determinare A è una controparte, allora io quella A, il contenuto di quella A lo darò meglio, mi giustificherò meglio, negozierò meglio se ho già fatto tanti passettini in avanti, non solo sull'idea, ma sulla sua fattibilità, sulla sua sostenibilità economica e sul suo orizzonte temporale per arrivare a diventare impresa che vende, che fa ricavo, che non vuol dire ancora marginalità, che rispetto a quella che è una previsione di costi, di sviluppo di quest'idea, mi diventa un'impresa con una certa marginalità, perché io una delle cose che, lo dicevo credo anche ieri sera, io torno a una ricetta, lui ha usato la ricetta della nonna per una metafora di un caso, io torno alla ricetta di mio nonno sul buon senso delle valutazioni aziendali, il moltiplicatore, qualcuno l'ha chiesto prima, ma perché 1, 3, 5, 7, a posteriori soprattutto sulle quotate, beh certo mi diri da un valore che tutte le mattine leggo sul giornale, che è la quotazione del titolo, diviso o moltiplicato il numero delle azioni, corrisponde poi a realtà industriali o no? Non è assolutamente detto, dovrebbe ma non è assolutamente detto, le bolle finanziarie o le valutazioni a prescindere dimostrano quello, in più o in meno, in più o in meno, ci sono dei titoli che sono oggettivamente sottovalutati se uno guarda i razionali del patrimonio netto o i razionali delle BTDA, quindi della redditività, ce ne sono altre che sono sopravvalutate, ma mio nonno sosteneva che il moltiplicatore in realtà è anche altro, perché torno al fatto che non ci sono verità assolute, ci sono cose legittime e illegittime, poi in mezzo ci sono gli interessi, le attitudini, le esperienze, quindi ci sono opinioni. Allora secondo me mi sembra convincente per chi ci mette i soldi, ma allora chi deve prenderli lo sappia prima, perché glielo sconto già prima, mi porto avanti prima, tra l'altro gli facilito anche il lavoro, mi professionalizzo prima. Secondo me una delle cose da valutare è per esempio che il moltiplicatore è il numero di anni che a parità di reddito l'investitore ci mette per recuperare i suoi soldi, infatti varia da settore a settore. Se io dovessi comprare uno studio legale, è un'azienda che conosco, è la mia industria, io prima non metterei mai dei soldi in tasca al venditore, perché tanto mi scappa dopo due giorni, perché si è stufato, ha sbagliato a vendermi l'azienda, quindi non gli metto mai dei soldi in tasca, al massimo li metto in azienda, cosa che nel 99% per analogia succede in tutti gli start up, è difficile che uno start up si fica qualcosa in tasca, al massimo fica dei soldi dentro l'azienda per lo sviluppo, per cui 100% da solo è molto meno bello che anche soltanto il 49% di una torta che invece è diventata più composita, ma il moltiplicatore, quello che si chiama il payback in inglese, è il numero di anni che se l'acquirente non porta nessun valore, vale soprattutto ovviamente non per gli start up, vale per le aziende, però poi sapendo il principio me lo adatto, se l'acquirente non porta nessun valore e l'azienda continua a ripetere lo stesso risultato in termini di reddito, uguale, è un'ipotesi ma per capirci, in un certo numero di anni, provocando lo stesso reddito, il moltiplicatore permette all'acquirente di capire in quanto tempo torna a casa dei soldi, perché ha applicato il moltiplicatore 3, 5, 7, dipende dal tasso di rischio che ha l'azienda, in termini di recupero del suo investimento, chiaro? In un'azienda ad alto rischio sulle persone, lo studio legale, se mi vanno via, se mi vanno in un altro ufficio, io compro un ufficio legale, se mi vanno via gli avvocati, se mi muoiono o se addirittura vanno a lavorare per la concorrenza e io gli ho messo addirittura dei soldi in tasca, quindi l'alto tasso di rischio legato alle persone condiziona il moltiplicatore. È vero che la mia è un'attività, come tutte le attività professionali, che potrebbero essere anche ad alto reddito, ma hanno un tasso di rischio legato alle persone altissimo, quindi è difficile che mi vengano applicati dei moltiplicatori alti, perché chi entra ha già un orizzonte temporale più limitato, perché dipende dalla rischiosità dell'industria in cui è andato a mettere i soldi. Per gli start-up secondo me è la stessa roba, e cioè quanto è affidabile l'uomo, ma ve lo siete sentiti dire, anzi l'uomo è l'asset, quanto è andato avanti il suo pensiero di diventare impresa, e cioè quanto quell'idea è già stata valutata in termini di fattibilità e sostenibilità economica prospettica, più vi portate avanti su questi tre elementi, più quando aprite la negoziazione sul punto A, che è il primo punto, perché se l'avete fatto innamorare, perché sei innamorato di me che gliel'ho raccontata, la narrazione dell'idea, B, mi sono anche già strumentato, non perché l'ho realizzata, ma perché mi sono posto dei problemi strategici, secondo me il contenuto convenzionale dell'A, e cioè il primone, che poi è la forza negoziale vostra di partenza, perché il B è necessariamente un vostro obbligo di quantificazione, poi chi entra lo va a verificare, vi dice magari che era sbagliata la vostra previsione, ma il B, cioè di quanto denaro ho bisogno per realizzare l'idea, beh se non lo sapete voi, sto sbagliando dal punto di vista negoziale, perché se glielo lascio dire a lui, vuol dire che io già sono rimasto col golellino di paglia, cioè ha un'idea, ma non ho la minima idea di quanti soldi ci vogliano per portarla ad essere impresa, il che vuol dire che chiedo a lui un supporto anche di analisi di merito su quanto è il bisogno, perché io non ho le idee chiare, mentre se io mi presento avendo già fatto tutte le stazioni dicendo che oggi vale niente, perché oggi siamo all'inizio, ho addirittura zero di ricavo, un po' di costi di impianto, ma sono da un anno in vita, magari in un incubatore, e se avessi 100, 1000 o 10.000 di equity o comunque di funding, io potrei accelerare il processo di sviluppo di quell'idea che va a recuperarmi un bisogno, quindi dei clienti potenziali, quindi i primi ricavi che ci sono, perché il tempo di entrata sul mercato rispetto ad altri possibili concorrenti è uno dei fattori fondamentali di successo di questa impresa, mi presento da lui con idee strutturate, con la capacità di difendere allora un valore A rispetto all'importanza del B che deve metter lui per arrivare poi a quel C che speriamo sia la soddisfazione di tutto. Il che non essendoci verità di fondo è tutto negoziale, è tutto negoziale, l'innamoramento è la capacità di narrazione e la capacità di contenuto di non essermi inventato una cosa che piaceva solo a me, deve piacere anche a lui o ai miei amici FFF. B, che io ci ho già speso dentro sei mesi sangue, notti insonni e un po' di affitto di un incubatore, ma se avessi 100.000 euro qui, ma non solo so che sono 100.000 e non 200.000, se no è meglio che scriva 200.000, ma ho fatto il breakdown per dire che mi servono quelli lì perché so già cosa fare, con l'umiltà e modestia di trovarmi poi delle persone che mi dicono ma no, scusami, ma guarda che sarebbe meglio che ecco gli aggiustamenti, ecco il valore aggiunto che mi porta anche colui che secondo me, so stamattina ne ho sentito una declinazione virtuosa, ne ho sentito anche che fanno il tuo mestiere di declinazioni molto meno virtuose, molto più cinicamente legate solo a reddito, ma infatti poi il mercato è fatto di tanti giocatori. Allora, se c'è un'esperienza e l'esperienza da know-how ne ha viste tante, le ha viste in tanti settori, ma i meccanismi sono abbastanza gli stessi, il che vuol dire che mi può dare un valore aggiunto anche nel mio A o anche nella mia previsione di B, perché mi dice ma guarda che non è necessario o come ha detto io te li do con una certa gradualità perché non ti servono tutti subito, andiamo a investire per esempio in marketing o comunicazione perché è un tipo di prodotto o servizio che necessita soprattutto di quello e quindi andiamo a farlo con una certa pianificazione, oppure è un discorso tecnologico oppure è un discorso di investimento. Ma questo ve lo dico perché è tutta una fase preventiva rispetto ad andare a trovarmi il denaro e più resisto, più mi fortifico e più mi imprenditorializzo io culturalmente, io start-upper, ponendomi il tema e non uscendo solo dal fatto che piace a me perché mi sono divertito da pazzi, perché sono l'artista o inventore pazzo, ma più penso che il mercato ce la faccia e più, e guardo lei perché ne parlavamo ieri sera, quanto è importante che mi ponga anche un tema di come comunicherò questo bene e servizio che va a risolvere il bisogno, perché più lo comunico, più il target che ne ha bisogno lo sa, più probabilmente me lo compra, quindi quanto è importante in questa prima fase quando vado a chiedere il B a lui, metterci dentro un pezzo che è dagli intangible fino al marketing strategico e fino alla comunicazione? Secondo me è molto, perché in molti casi che ho visto io quel pezzo lì che è più o meno per non cultura, per non conoscenza, per non credenza che sia importante è a volte molto sottovalutato, infatti uno dei valori aggiunti che devo dire almeno per quanto ho visto che portate è anche quello di porvi un problema per esempio di brandizzazione dell'idea, mentre lo start-upper non sempre si pone il tema di quanto sia importante per esempio spendere i primi 400 euro o 300 euro o 500 euro, dipende dai perimetri territoriali dal marchio, perché a volte il marchio che è la sintesi poi di solito del prodotto, è il simbolo del prodotto, è l'idea che potete facendovi aiutare, ma è un valore, quello comincia a essere un intangible ma che è contabilizzabile, che nel famoso ha, quando incominciano le concessioni con lui comincia a essere un valore, quanto mi è costato? Ma tanto, un po' di notti insonni, un po' di idea, un po' di bisogno, un po' di viaggi per andare a capirlo, secondo me uno dei primi punti, mutatis mutandis, è sempre sul tipo di prodotto e servizio, ma su tutto il B2C il marchio è fondamentale, sul B2B è diverso, però se noi in Italia, soprattutto le PMI che sono poi il 90% del nostro mercato, avessero più cultura sugli intangibili, il paese sarebbe cresciuto e tra l'altro siccome è amato nel mondo, ma poco conosciuto per le sue eccellenze, se incominciassimo anche a sviluppare un po' di cultura migliore sugli intangibili saremmo conosciuti meglio, perché è un grande tema, e non voglio tornarci sopra, quello dei brevetti, invece è un tema completamente diverso, perché il tema dei brevetti è collegato ad un trovato che rappresenta uno scarto rispetto alla conoscenza di quel momento, tecnica, trovato che vuol dire descrizione in un certo perimetro di una certa caratteristica che rispetto allo stato dell'arte costituisce uno scarto, che non devo dire soltanto io, ma vengo a seconda dei paesi, anche qui c'è un'anomalia italiana, perché qui per esempio qualsiasi cosa da quel giorno lì è registrata, poi non la guarderà nessuno fino a quando qualche terzo dice, no ma guardate che è una stupidaggia di quella roba lì, c'è già da tutte le parti, anzi l'ho fatta io, nei paesi seri, e i paesi seri sono poi quelli che proteggono gli imprenditori corretti e seri, la preverifica su cosa stai brevettando è fatta prima, non dopo, ma il brevetto è diverso, perché il brevetto è legato a un trovato, ma quel know-how che ho visto comparire, che invece è quella che abbiamo chiamato giustamente, la proprietà intellettuale è un qualche cosa che costituisce un asset fondamentale per l'idea, che però non è legalmente proteggibile, perché a meno che non si declini, ma allora non finisce in un qualche cosa di industriale, in un diritto d'autore se sono un artista, ma allora faccio prodotti editoriali, allora faccio uno start up di contenuti di prodotti editoriali, per carità, ho preso quel filone lì, vado dentro quel filone lì, le prime protezioni, sempre per determinare l'AE, ci siamo chiari la casella A, e per andare a chiedere B, e c'ho un grande contenuto, devo solo stamparlo, barra, mandarlo online, vado da lui e gli dico, guarda il problema è far solo conoscere che sto romanzo qui è straordinario, perché non l'ha ancora scritto nessuno, lo faccio innamorare del romanzo, lui mi dà i soldi, barra le relazioni, per andare dalla Mondadori di turno, online o offline, il titolo del libro è automaticamente il marchio, non c'ho problema, ma se invece non ho quello, se invece non sono nell'area del diritto d'autore, l'idea per diventare proprietà industriale va sul segno distintivo, e se non c'ho un trovato tecnologico che è uno scarto, c'ho solo il marchio? Solo, solo, a volte le aziende vengono valutate sul marchio, il che si dimenticano completamente tutti dei moltiplicatori, azzerate completamente il ragionamento che facevo prima quando recupero sui soldi, l'azienda vale il marchio, che vuol dire vale il fatturato, vale la capacità di conoscenza che ha in quel momento, io che compro penso addirittura che con me l'allargo ulteriormente perché mi porto dietro magari nuovi mercati. No, perché fa parte della valutazione sugli uomini. Se lei è solo un pozzo di scienza multidisciplinare, se i due start-up sono due, lui si occupa di numeri e lei di parte tecnologica, vuol dire che avete già una complementarietà multidisciplinare per cui c'è il gestore amministrativo e c'è l'inventore tecnologico, quindi la multidisciplinarietà fa parte della valutazione dell'uomo barra del promotore. Detto tutto questo, secondo me oggi in Italia, in un contesto economico tra l'altro unico negli ultimi 60 anni, perché non c'è mai stata contestualmente una situazione in cui il denaro non costa niente e da ieri costa ancora meno. B, le materie prime non sono mai costate così poco negli ultimi 40 anni, materie prime, petrolio ed intorni. Tre, finalmente abbiamo anche, e questo perché siamo italiani, se fossimo americani avremmo un problema inverso, se fossimo svizzeri avremmo un problema ancora inverso, ma siccome siamo italiani abbiamo una valuta che oggi ci permette di esportare i nostri prodotti con 21% in un mese di creazione di valore, allora mai come in questo momento in un paese che non può più garantire posti di lavoro fissi, perché quella cultura lì giusta, sbagliata, ci piaceva, non ci piaceva, non c'è più. Io sono uscito dall'università in cui, durante un periodo in cui il motto era se sei bravo il posto lo trovi, tu pensa a essere bravo, pensa a essere competente, pensa a saper fare il tuo mestiere, poi lo trovi. Adesso provate a uscire dall'università, che tu sia bravo è già una precondizione soltanto per sedersi al tavolo, perché se no non ti siede neanche al tavolo, ma poi non è detto che ti prendo. Allora, secondo me in questo contesto e con quelle variabili lì, macro, beh ci vogliono degli imprenditorini che siano stati curiosi o che incominciano ad essere curiosi, B che vadano a porsi il problema prima di fattibilità e sostenibilità economica, ci avere un riferimento o dei tre F, di gente che ci crede in me e mi tira fuori i soldi e del club deal, oppure degli istituzionali che saranno un po' rigidi, saranno un po' ingessati, ci metteranno un po' di tempo, però sono degli istituzionali, perché lui ha fatto il disegno del pesce cane, il pesce cane io lo trovo più facilmente nei non professionali che non qui, perché qui le regole del gioco le so prima, ho sentito i numeri, mi possono piacere e non piacere, ho sentito il percorso, ho sentito il metodo, qui però è certo, è un SGR, è un veicolo controllato dalla Banca d'Italia, non ho sorprese, mi piace o non mi piace, al fin lo conosco prima, nei club deal, beh nei club deal tra amici sono delle variabili infinite. Allora, vista l'ora io scorro velocemente quello che vi avevo preparato per la negoziazione, che vuol dire darvi soltanto dei titoli, che vi rimangano i titoli, perché poi spero che abbiate bisogno della mia categoria, che tra l'altro, in questa evoluzione che vi costringe a essere imprenditorini, purtroppo abbandonando l'idea del posto fisso, guardate che cambiano anche i nostri mestieri, perché una volta io ero, io sono figlio di avvocati, mio padre stava in ufficio, gli suonava il campanello e gli arrivavano i clienti, già la mia generazione ha dovuto uscire dall'ufficio andargli a prendere, adesso non solo usciamo dall'ufficio andargli a prendere, ma siamo anche in tanti andargli a prendere e ci troviamo in tanti, anche da lui presumo, a dire guarda che noi, bravo eh, e loro a parità di bravura prendono quello che costa meno. Quindi culturalmente anche nel nostro mestiere, e mi sembrava che ne avessimo parlato, che cos'è il work for equity. E sostanzialmente candidarci a darvi una mano nel momento in cui avete bisogno di noi, perché avete bisogno di noi? Perché paradossalmente lo start-upper ha più bisogno di legalità e di protezione quando non ha i soldi, all'inizio, che non dopo, perché dopo bene o male ha trovato loro e se trovo un istituzionale poi mi aiutano loro, poi sono organizzati loro, ma è quando sono solo che avrei bisogno di proteggermi e non ho i soldi. E allora cosa faccio? O trovo dei fornitori di servizio, adesso faccio il mio caso perché lo conosco, ma vale per il commercialista, vale per l'ufficio paghe, vale per l'ingegnere, vale per i consulenti che mi aiutano a crescere, e gli dico guarda, io soldi non ne ho. O accetti con me il rischio e diventi anche tu un pezzo della tentativa di creazione valore, per cui poi insieme, quando andiamo là, lo trattiamo insieme, aiutami a ottimizzarlo e poi andremo a negoziarlo insieme. Quindi anche il nostro mestiere sta cambiando e sentivo stamattina anche che c'è questa trasformazione che trovo estremamente anche stimolante per noi, certo molto più rischiosa per i giovani che incominciano a fare il nostro mestiere, ma devono essere imprenditori neanche loro. E cioè non è sempre che ci sono i fortunati e gli sfortunati, è cambiato il mondo ed è cambiato per tutti, ed è cambiato pro quota anche per noi. Che cosa vi ho scritto, che cosa vi lascio come memoria? Gli obiettivi dei contraenti. Stamattina avete sentito il film vissuto da un istituzionale sul vostro mondo. Io ho cercato e lo vedremo di dividere i loro obiettivi, li ho sentiti, poi ci sono anche quelli degli start-upper e quindi li vediamo scorporati. Quali possono essere gli strumenti contrattuali per risparmiare dei soldi ma avere un minimo di disciplina o protezione? Quali sono le protezioni a cui farei fatica a dire ma almeno provateci e poi un minimo di struttura dell'accordo. Allora voi, lo chiamo l'inventore ma siete voi. Allora da solo non ce la faccio. Se ce la faccio ma non c'ho problema, me lo sviluppo io. Ma devo trovare qualcuno con cui svilupparla perché o mi mancano i soldi o mi manca il sistema rete o mi mancano dei pezzi. E quindi devo trovare i soldi. Devo però nello stesso tempo cercare non solo di trovarli perché vuol dire che mi ha apprezzato e me ne dà un certo stock più o meno adeguato alle mie speranze. Ma il mio tema è che devo in qualche modo proteggere il mio ruolo prospettico perché è uno dei temi più frequenti dei bisticci è che all'inizio quando io valgo poco, in termini di denaro valgo nulla o tutto. Quindi tutelo me stesso. Ma quando entro in una combinazione societaria e poi l'idea diventa impresa e diventa poi risultato, profitto, valore, beh qualcuno che prova a cacciarmi via perché ormai sono inutile, è un tema. Perché? Perché devo tenermi uno che ormai ho, uso bruttissimo termine, spremuto. Ormai mi ha dato l'idea, ormai l'ho presa, funziona, se posso gli do un calcio nel sedere e me lo tolgo dai piedi. Certo che è una visione miope, certo che è una visione da pescicane. Può succedere? Sì. Allora mi pongo il tema. Succede con gli istituzionali? No. Perché ti obbligano a scrivere prima una serie di cose, te ne rendi conto prima. Succede nei club deal? 90%. Quando c'è un bruttissimo paragone, un po' volgare anche lessicalmente, tra il risotto e un'altra roba. Quando è un'altra roba sembravi tutti a dividerla. Quando è un risotto, cominciamo a dire, no ma scusami, ma gli ho dato i soldi io, ormai è riuscito, ma perché devo tenermelo dietro che in più ha anche un caratteraccio perché è un po' neurotico? Ma finisce sempre così. Quarto e ultimo, come protezione è non essere stromesso magari sul più bello. Anche perché magari non avevo un'idea proteggibile, anche perché magari il marchio non l'avevo registrato, anche perché il brevetto non ce l'ho, avevo solo una bella idea e mi fidavo. Sono diventato un agrumo che è finito in un basket. Ben spremuto. E succede. Ripeto, ma non perché è qui, perché ho detto facciamo finta che sia andato via. Con gli istituzionali, poi se serviamo è per creare anche un po' di provocazione e dibattito. Con gli istituzionali non mi succede. Nei club deal devo fare attenzione. Ma chiunque siano, siano istituzionali, siano amici o parenti, hanno tre obiettivi. Uno, ti metto 100, ma per portare a casa di più, perché il rischio che perdo i 100, li abbiamo sentiti. Ma devo portare a casa molti di più, perché se no sono un cassettista, mi compro non più dei titoli di Stato, ma faccio altre cose. B, se metto dei soldi devo controllarlo però, il giro del denaro. E normalmente l'inventore start-upper non ha delle culture e delle radici di controllo di gestione. Per cui normalmente il controllo di gestione, chi ha in mano la cassa e come la muove, visto che metto dei soldi io, investitore, voglio sapere come girano. Tre, e questo dipende dalle ottiche, se vado dagli investitori istituzionali o vado nei club deal, se trovo uno che dopo un anno vuole già il risultato, sarà un amico, sarà lo zio, però mi crea delle ansie che 365 giorni sono già volati nel momento in cui ci stiamo parlando. Se invece sento degli orizzonti temporali 5 e 7, comincio a fare riflessioni diverse. Però vedete che gli obiettivi sono asimmetrici. Cosa posso fare non avendo grandi denari? Né lo start-upper, né l'investitore se può, perché li risparmia sul fatto legal. Qui gli americani ci hanno costretto a noi a semplificare molto i format. Vi ho messo lì term sheet, perché ho imparato personalmente a ridurre, adesso io vi dico due, ma possono essere tre o cinque, non è quello il tema, ma i mallopponi americani, perché il contratto americano di un investimento in una start-up è un contratto di 100 pagine. Non hanno il codice civile, quindi devono scrivere tutto perché hanno la common law. Ma prima di arrivare a pagare un avvocato che mi faccia un contratto da 100 pagine, bruttissimo il dimensionale, ma per darvi un'idea, io subito devo fare l'affare, cercare di pagarlo meno e cercare di pagare poco l'avvocato nella fase iniziale. Ecco, il sheet è una sintesi degli aspetti essenziali di quello che è l'accordo di investimento e del patto parasociale della società comune. Allora, riuscire a semplificare la complessità senza perdersi nessun pezzo è come l'impresa di Benigni che mi raccolta i Vangeli e piace a tutti, perché l'audience è straordinario, di una complessità. Lo ignoro ma è un sistema anglosassone. Io in tre pagine non devo solo perdermi dei pezzi, cioè la semplificazione che secondo me è un processo anche per lo start-up fondamentale, se io ho un modello di business illegibile e non comprensibile non me lo apprezzano. Quindi io devo cercare di scrivere le cose semplici che non vuol dire però superficiali che si fermano alla forma e si perdono dei pezzi in giro. Il term sheet è un documento, e ormai ci sono dei drafting standard, che in sette punti, quindi in due pagine, mi sintetizzano i punti centrali dell'accordo, dell'accordo iniziale. Poi quando l'accordo iniziale diventerà impresa, quando ci sarà il primo giro degli investitori, allora a quel punto arriveranno i soldi veri, arriveranno i capital gain veri, a quel punto riguadagniamo tutti, tutti anche noi perché anche noi ci siamo limitati all'inizio, si è stati dei fornitori che hanno aiutato e quindi tutti dobbiamo poi tornare a casa. Secondo me potrebbe già essere la definitiva, perché quello che in America si chiama il term sheet da noi potrebbe essere un contratto con effetti obbligatori, neanche preliminare, che porta già a una cessione quote a chi mi entra in azienda, barra alla costituzione di una società, perché a volte non ce l'avevo neanche, in più, ma adesso lasciatemi solo completare, fare anche le altre cose. L'accordo di investimento è il contrattone, non è detto che dobbiamo farlo subito, lo potremmo fare anche più avanti, l'importante è che nel term sheet ci sia tutto. Lo statuto della GNUCO normalmente è standard, ma ovviamente deve rispecchiare quello che c'è scritto nel term sheet in termini di quote di maggioranza o quelli che si chiamano i quorum speciali per certe materie, maggioranza o minoranza, conta fino a un certo punto, come vi è stato detto, perché se io dico che le 10 materie fondamentali della gestione della società si prendono con il 61%, a me di avere il 51% mi può interessare fino a un certo punto, io lo do anche, prendo anche qualche più soldo da mettere dentro, ma col 40% delle quote sono tranquillo che avrò un diritto di vetto, entro certi limiti, su materie rilevanti. Quello che vi consiglio di mettervi a scritte cubitali è quello che gli inglesi chiamano il service agreement, perché il service agreement è il documento che in Italia noi rappresentiamo col contratto di assunzione o comunque col contratto che regola i rapporti tra il dipendente e la società. In questo caso siccome lo start-upper per loro è la chiave dell'investimento, vi è stato detto è l'uomo, ma se per loro è la chiave di un business, per lo start-upper è la chiave della sua vita, forse sarebbe il caso che tre cose di quel service agreement, tipo durata, tipo compenso fisso o variabile, tipo mi puoi cacciar via se rubo, la dico brutalmente perché è giusto che mi cacci via, ma se mi cacci via perché non ti piaccio più, ricordatevi le estromissioni, le conseguenze saranno un po' diverse. E un altro tema è quello delle licenze di marchio e brevetto, qui torno al discorso, perché io vedo sempre di più, per esempio, soluzioni in cui faccio una società con un istituzionale per lo start-up, ma il marchio me lo sono intestato personalmente, io start-upper, e lo do in licenza all'Agnuco che parte in società con l'istituzionale. L'istituzionale potrebbe chiedermi, dice ma io preferirei che fosse intestato alla società perché è patrimonio comune, in questo modo è patrimonio solo dello start-upper, che lo dà in licenza. Dipende come scrivo il contratto di licenza perché potrebbe essere una licenza per 20 anni di cui i primi due gratuiti perché aiuto anch'io lo start-up, lo sviluppo dell'azienda, ma poi dal terzo anno diventa oneroso, poi le royalties andremo a quantificarle, ma io isolo un pezzo dell'asset dell'idea, il marchio o addirittura il brevetto e lo intesto personalmente a me stesso, cosa che è assolutamente legittima negozialmente da andare a discutere ovviamente con l'istituzionale che mi dice ciccio, se vuoi i miei soldi l'intestazione la metti dentro. Oppure mi dice no, rispetto il tuo approccio, però la licenza deve avere queste caratteristiche e quindi io che metto i soldi in quella società sono tranquillo che comunque il mio investimento non ha dubbi sull'utilizzo di quel marchio o di quel brevetto. Quindi ad esempio, io sono realizzato un marchio che è una società, posso scegliere di intestarlo alla persona fisica e poi cederlo in uso alla società di cui io posso migliorare? O posso direttamente intestarlo alla società e che se lo conto... Così, capite che è un pochino diverso? Protezione della negoziazione. Le ho proprio divise in due perché sono due mondi, no? E nella negoziazione se avviene in maniera trasparente e costruttiva queste cose si dicono prima. Non è che si occultano perché è meglio non parlarne, perché magari lo start-up si irrita o si preoccupa o magari l'investitore non mette i soldi. Io sono sempre per l'idea che parliamo di tutto. Prima, il momento più difficile e ultimo del nostro rapporto come controparti è quello lì, perché da un minuto dopo, quando avremo firmato, corriamo tutti e due insieme sullo stesso carro. Ma l'ultimo momento di chiarezza, anche dura, anche negoziale, è quello del documento che regola queste cose. Allora, ricordiamoci che normalmente lo start-up ha minore capacità economiche, se no farebbe da solo. B, ha quindi un rischio, no? Perché se facciamo una società insieme che poi avrà delle necessità di equiti e di capitale, tra l'altro in certi casi è obbligata dal codice civile che dice che se ci sono certe perdite tu devi ricostituire il capitale, sì, amici miei, ma se non ho soldi come lo ricostituire? Se lo ricostituisce soltanto l'investitore, per colpa o non per colpa, io ho perso tutto. Allora ci sono delle clausole che si chiamano contro l'annacquamento della quota, almeno mi proteggo entro certi limiti e non in maniera definitiva, ma almeno un nocciolo per rimanerci dentro, perché se no c'è una tale disparità di forza patrimoniale che quando vogliono mi fanno un aumento di capitale io sono fottuto. Tre, l'estromissione. L'estromissione vuol dire mi cacciano, ma le due categorie ve le ho già dette. Se rubo o faccio illeciti, quella che si chiama giusta causa, mi sembra non solo doveroso ma anche corretto che mi caccino. Se invece sto facendo esattamente le cose che ci siamo detti, ma non piaccio più o sono diventato un peso, allora probabilmente non ho tante forze perché sono più forti di me, però che almeno io abbia una conseguenza economica sia in termini di diritti di lavoratore, sia il suo amministratore, sia la formula che avremmo trovato, quindi mensilità che mi devono dare, sia perché stiamo parlando di società in fase, non si sa mai quando accadrà l'evento, comunque in fase di sviluppo, che probabilmente non saranno mai quotate quando succederà questo, se io mi tengo delle quote poi magari di minoranze in una società non quotata, non me le comprerà mai nessuno perché non c'è un mercato. Allora io devo disciplinare anche nelle cause di estromissione la liquidazione della mia quota. Se mi cacci via perché non ti piaccio più, allora come compenso studiamo delle discipline per cui io sia almeno protetto, ma mi liberi anche un valore della quota che se non ho commesso nessun tipo di illecito o comunque di un qualche cosa di contrario ai nostri accordi sia per me gratificante e per te penalizzante. il moltiplicatore, che però in questo caso è un moltiplicatore che sana un'eventuale decisione non allineata rispetto alle premesse originarie. Deve? Invento della natura della quota sarete voi l'antimition? Sì. Che comunque può interessare anche l'investitore quando la voi arriva e trova dove è. Sì. Problema dell'investitore. Metto i miei soldi, li metto dentro nella società. Normalmente non sono io il gestore della società perché io li ho messi, ma per operare un controllo e per aiutare lo sviluppo, ma è lo start-upper che deve continuare a fare il suo mestiere. Allora ho tre obiettivi. I soldi li ho messi io, il controllo sulla cassa, te lo lascio, ma devi darmelo con una reportistica, con delle modalità di firma, con delle procure, non lo so. Sì, ma anche meno. Due, metto dei soldi dentro, non è che poi ti innamori della ballerina o del ballerino e mi scappi in Brasile e curiosamente mi apri un'altra società uguale. Quindi c'è un problema che start-upper tu, concorrenza, te la scordi. Metto i soldi, corrispettivo di una non concorrenza, che dura secondo certe modalità da concordare. Per esempio, il principio che trovo corretto, metto i soldi ma mi proteggi che non scappi, se poi ti caccio perché non mi piaci più, non è che c'è la non concorrenza del dopo. Mentre se ti caccio perché hai rubato, la non concorrenza rimane. Quindi c'è sempre da trovare un equilibrio tra i due diritti e doveri. E poi c'è un terzo elemento, che non ho una conoscenza del business. Per quanto io abbia fatta le verifiche, per quanto sia andato dentro, comunque c'è un elemento che è il trust, e cioè la fiducia nel uomo che conosce il business. A maggior ragione, non avendo la conoscenza del business, io devo avere della reportistica, del coinvolgimento, delle possibilità di vivere insieme l'avventura, che costituiscono anche dei diritti. Come strutturare un accordo? Sia esso un term sheet, sia esso un accordo. Allora, sia esso un accordo di investimento. Vi ho proprio dato i titoli, siccome sono solo più 3 minuti e 50, mi limito a leggere i titoli. Chi ha dei dubbi, alza l'editino. Le premesse in un contratto sono fondamentali, non sono bullshit messi lì perché gli avvocati fatturano a tempo. Sono il perché le due parti fanno un certo accordo, che è importantissimo, non per loro due che le conoscono, ma per chi in futuro andrà a leggere quel contratto, in caso di bisticcio, e più ci sarà scritto nelle premesse, più capirà le ragioni e gli obiettivi che si erano posti e valuterà meglio che dei due ha fatto una gallioffata. Chiaro? Più sono preciso nelle premesse. Tu metti i soldi perché hai visto, ti è piaciuto, io ti ho raccontato delle cose, io ti ho anche detto che avevo l'intestazione del marchio, lo davo in licenza a certe condizioni, tu mi hai detto che ti andava bene, perché tutte e due volevamo... Più ne scrivo, più offro al futuro interprete, in caso di bisticcio, strumenti per dire Riccardo, ma scusami, ma guarda cosa avevi scritto. Meno ne scrivo, più la gente cambia idea. Quello che ci diciamo oggi, io domani me lo dimentico. Dica. Dica. Sì, io ve l'ho scritta così, storia delle ragioni, dichiarazioni reciproche di garanzia, presa a dato dell'investitore di certe situazioni, finalità e descrizione delle finalità. Come mai facciamo sta roba? L'investitore mi può entrare mettendoci dei soldi a titolo di equity, capitale di rischio, a titolo di prestito o addirittura, e spesso può succedere soprattutto negli FFF, non con loro, mi metto una bella firma in banca e la banca mi dà 100 mila euro di fido. Era mio zio, credeva nel dipote e è andato a mettere una firmetta. Dico, zio, non preoccuparti, tanto li utilizzo, poi va meglio. Sì, se poi va male, io non restituisco, lo zio si prende a casa. Allora, il titolo per il quale mi danno i soldi è importante perché il valore dell'equity è ben diverso che darmi soltanto una garanzia su un debito o addirittura imprestarmi dei soldi. Cioè, cambia profondamente il rischio per voi. E quindi, nella casella A, cambia profondamente la valutazione. attenzione, avete tre, normalmente tre, usiamo la SRL che credo ieri vi abbiano raccontato tutte le agevolazioni che ha, la SRL innovativa, la SRL per i giovani, tutte quelle condizioni in favore, quindi ha tre organi, uno è il consiglio di amministrazione perché normalmente finite in un consiglio di amministrazione perché l'amministratore è unico, è difficile che un investitore lo lasci perché se no i controlli sono a cassa come li faccio? B, l'assemblea è il terzo un organo di controllo che normalmente il collegio sindacale è un revisore che serve a tutti di tranquillità perché ci dovrebbe essere un terzo che guarda le carte, controlla i numeri, controlla la correttezza. Poi, sul fatto che i revisori guardino la carta e non la sostanza è un bel tema che da Parma lati in giù dovrebbe averci insegnato delle cose. Però, allora, proprietà industriale fondamentale, lo start-upper all'inizio ha probabilmente degli elementi proteggibili che è bene che per valorizzare la sua quota o se non ce la fa insieme all'altro vada a definire i diritti di proprietà intellettuale e industriale, marchi, brevetti ed intorno. L'annacquamento ne abbiamo già parlato, la non concorrenza ne abbiamo già parlato, ci vuole una durata e ci vuole un compenso, se no il patto è nullo. Le materie rilevanti che vi dicevo prima nell'accordo, se io start-upper prendo atto che mettendoci un sacco di soldi io scendo al 40%, che mi frega se ci sono 18, 12, 5, 4, quelle che decideremo insieme in cui il mio voto è determinante perché senza, ipotesi 60 e 40, senza il 61% certe decisioni non si prendono, nulla. Ne hai già parlato tu, le exit, e cioè quando dovessimo vendere, hanno tutta una serie di discipline che si chiamano co-vendita ed intorni, e cioè normalmente chi compra vuole comprare tutto e quindi tutti e due ci discipliniamo il fatto che se io trovo un acquirente che a certe condizioni di prezzo e di parametro di prezzo precondivise perché non è che scatta se ci offrono due bucce di banana perché tra l'altro dietro poi a me le integrano con altro. Abbiamo visto anche questo, io ho visto, creo un terzo che offre due lire e io obbligo loro alla co-vendita per due lire abbiamo preso i soldi, abbiamo risolto il problema, tanto a me integra poi l'acquirente e me li dà poi a me perché ha bisogno di me start-upper. Ecco, no, queste cose qui non solo non si fanno ma vengono bloccate da queste discipline di co-vendita e poi c'è se avete tenuto fuori marchio o brevetto i contratti con l'inventore che sono sia delle licenze se li avete tenuti fuori o puramente operativi che vanno a remunerare il lavoro che hanno normalmente dei temi di durata di quanto mi dai di compenso, devo vivere, è la mia azienda, sei entrato tu ma siamo insieme, io sono uno che ci lavora dentro e devo vivere, quindi compenso e cause di risoluzione, famoso rubo o non ti piaccio solo più. Nel pomeriggio stiamo insieme, l'idea era di offrirvi l'opportunità di avere voi start-upper un investitore istituzionale, un professionista e potremmo simulare una negoziazione su un caso. B vi consigliamo di vedere con noi un video che vi racconta di uno come voi che faceva focaccia a Genova che vent'anni fa è andato a Silicon Valley in un altro ecosistema, però ogni tanto sogniamo un po' ha fatto delle cose, il che non è spintonarvi ad andare all'estero ma cercare di portare qui pezzi di quella cultura là. Va bene. Grazie a tutti, il laboratorio per oggi finisce qui, almeno per lo streaming e nel pomeriggio fra una mezz'oretta o tre quarti d'ora ci sarà invece il workshop. Grazie. Grazie.